Nella mia vita ho pensato sempre e continuo a pensare periodicamente che poche cose sono fatte veramente bene Ecco, quest'anno una delle poche cose fatte bene è la continua scelta di formazione di Luciano Spalletti Perché qualcuno oggi, e ve lo dico senza troppi problemi, avrebbe deciso, avrebbe pensato Avrebbe fatto la follia di schierare dei panchinari Perché sì, perché dai, perché il Napoli tra tre giorni gioca con l'Aintracht di Francoforte e Spalletti No, perché sapeva benissimo che dopo che tu vai a perdere in casa contro la Lazio Un'eventuale non vittoria contro l'Atalanta in casa, che poi ad onore del vero Per anche un dovere di cronaca dobbiamo dire che ci potrebbe anche stare Perché se oggi il Napoli non avesse vinto in casa contro l'Atalanta Tutti avremmo detto, vabbè ragazzi, anzi, pensandoci mentalmente tutti avremmo detto Ci potrebbe anche stare, non pensandoci, e questo è quello che succede in Italia Avremmo detto, Napoli in crisi, ha perso con la Lazio, ora non ha vinto con l'Atalanta Ma che cosa sta succedendo? Invece Spalletti è intelligente, sa questa cosa, cerca di prevenire questa cosa E scende in campo con tutti i ritolari Ci vuole coraggio, ci vuole coraggio perché tra tre giorni il Napoli affronta l'Aintracht di Francoforte E quello sarà un match che varrà praticamente alla stagione Sebbene a mio avviso i partenopei sono praticamente già passati Perché hanno vinto a 0-2 Poi ovviamente devi scenderci in campo Magari becchi la nottata no E quindi vai a giocare E per di 0-3, non lo so, mi sembra abbastanza improbabile Guardando i valori delle due squadre Guardando questo Napoli Guardando questo Aintracht, che è una buona squadra Ma il Napoli, insomma, lo abbraccia, lo stringe forte Dice tranquillo, va tutto bene Ecco, più o meno la situazione attuale è questa qui E il Napoli oggi scende in campo con tutti i ritolari Batte l'Atalanta, risponde a tutti Risponde a tutti E questa è la cosa da non dimenticare Innanzitutto a chi risponde? Risponde a quelli che dicevano E io criticai aspramente in un video precedente Che il Napoli vinceva tanto perché giocava per primo E non aveva le pressioni Ebbene, per il discorso della Champions Il Napoli è costretto a giocare dopo l'Inter L'Inter perde, perde in casa dello Spezia E il Napoli, dopo l'Inter, batte l'Atalanta E si riporta a più 18 Ecco, allora, a questo punto Venitemelo a dire Che il Napoli che gioca sempre primo C'ha la pressione Quest'anno ho sentito un sacco di cazzate La realtà dei fatti È che poi bisogna parlare delle squadre che vediamo giocare a pallone Quest'anno ragazzi Il Napoli Non è che merita lo scudetto Io lo avrebbero già da adesso Cioè praticamente ha ammazzato il campionato Quest'anno il campionato non è mai partito Per il Napoli Che non ha mai Praticamente mai Ad eccezione di quattro partite Lecce, Fiorentina Inter e Lazio Pensate se ce le ricordiamo tutte Vuol dire che insomma È proprio grave quando il Napoli non vince Ecco il Napoli ha praticamente vinto tutte Tutte le partite di questo campionato Dando per figuraccia appunto la voce Che voleva che il Napoli corresse così tanto Perché senza pressione Tra l'altro è un Napoli che domina Che c'ha una grande chance nel primo tempo Con Musso che fa un miracolo Ma scendendo dalla grande chance È un Napoli che nel primo tempo gioca da solo L'Atalanta non fa un tiro in porta Manco a pagarlo Riesce a reggere Fa la partita che deve fare Sa benissimo l'Atalanta che andando a giocare A viso aperto contro il Napoli Ne uscirebbe Con il culo bruciato Ma è chiaro che sia così In questo momento Chiunque affrontando il Napoli A viso aperto Forse tranne un paio di squadre In tutto il mondo Non ne uscirebbe con il culo bruciato Quindi è normale che l'Atalanta Si prepari con quell'assetto lì Che pensi maggiormente magari A difendere un risultato Che è uno 0-0 Appunto positivo Fino a che lo 0-0 rimane Quindi fino a circa il 60-65 Per poi di fatto magari Cercare qualche exploit Qualche risultato Che all'improvviso Possa diventare importante Per l'Atalanta Un'Atalanta orfana di Luckman Ma un'Atalanta che davanti a Oilund Che non riesce a sfruttarlo Perché il Napoli Praticamente lo azzera Un'Atalanta che davanti a Duvan Zapata Che ormai ragazzi Duvan forse ha qualche Non so forse dovrebbe cambiare Forse dovrebbe cambiare aria E arriva quel momento E credo sia arrivato in generale Anche per Duvan L'Atalanta Il cambio generazionale Da Duvan Muriel A Luckman Oilund lo sta facendo Brava l'Atalanta Devono farlo anche I giocatori dell'Atalanta Che in questo momento Si sentono un po' Pesci fuor d'acqua Come il Napoli Sblocca la gara Le squadre Le grandi squadre Che fanno fatica Le gare poi le sbloccano Da calcio piazzato Perché? Perché succede questo? Il Napoli non fa nemmeno quello Dimostrando quanto diamine In questo momento I partenopei Siano enormi Il Napoli la sblocca Su un'azione in cui Cavaraschelia Fa quello che gli pare Cioè non è che dici Cavaraschelia Fa fatica Trova una Un'imposizione Un blocco No Fa quello che gli pare Fa continui cambi di direzione Destro-sinistro 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 I difensori Ci avvicinano più E poi tira una Una saracca Tira uno sveglione All'incrocio dei pali Che spappola Qualunque cosa Questo è il gol di Cavaraschelia Del solito Cavaraschelia E questa è anche la rete Che sblocca la partita Questa è anche la rete Che porta in vantaggio Il Napoli Questa è anche la rete Che indirizza poi la partita Perché se poi il Napoli Raddoppierà Con Rachmani Questo sì Da calcio piazzato È proprio per quel motivo lì È proprio perché L'1-0 Mette la partita Su alcuni binari Secondo cui poi Il Napoli Può addormentarla E avvicinarsi Alla vittoria finale E infatti poi Arriva di fatto Il 2-0 Arriva tra l'altro Con l'ingresso in capo Di Juan Jesus Al posto se non sbaglio Di Kim Juan Jesus Che non lo vedevamo Da un bel po' Gioca anche Juan Jesus Però poi Il terzo tempo Di testa Su calcio d'angolo Lo fa Rachmani E porta il Napoli Sul 2-0 Di fatto in quel momento La partita Finisce completamente Il Napoli Aspetta la fine L'Atalanta Pure conscia del fatto Nonostante qualche Magari sprazzo Di non aver bloccato I partenopei Potendo Di fatto fare di più Però diciamolo Con grande chiarezza Questo Napoli Quest'anno È veramente Tanto tanto forte Quando vi parlavo Di una risposta La risposta Il Napoli La dà anche Con la vittoria di oggi Perché era semplice Non vincere oggi Veramente ragazzi Era veramente semplice Io oggi non credevo Vi dico la verità Io nonostante Il Napoli Corra tanto 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 Io oggi Non credevo Che il Napoli Avrebbe vinto Ma per un insieme Di fattori Perché l'Inter Ha perso E quindi avrebbe significato Anche non vincere Tenere un più 15 Almeno Ma anche un più 16 Perché il Napoli Aveva perso Una settimana fa E quindi ci stava Che comunque Un pochino mentalmente Rallentasse Perché Perché il Napoli Giocava contro l'Atalanta Una squadra forte Formata Una squadra vera Perché l'Atalanta è una squadra vera Che però Nelle ultime settimane Aveva perso un po' di punti Per strada E da buona meteora Qual è? Che magari perde contro Che ne so La Samp Ne sparo una a caso Non ha perso Ha perso contro il Lecce in casa Poi magari va a vincere A Napoli E quindi mi aspettavo Che magari l'Atalanta Potesse fare un exploit Dulcis in fundo Ultimo Ma non per importanza Il fatto che Il Napoli Come ho detto in precedenza Tra tre giorni Giocava in Champions Quindi ci stavano tutti In attenuanti Per un pareggio 0-0 E dicevano Vabbè ragazzi Il pareggio Quindi magari Se la Juve vince Prende tre punti Quello e quell'altro Poi recupera Bla 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 Magari Qualcosa può ancora No raga Il Napoli Non gliene frega niente Quest'anno il Napoli Non gliene frega niente Questa è la cosa clamorosa Questa è la notizia La notizia È che tutto ciò Che abbiamo detto Fino a questo momento È sempre più vero È sempre più vero Che il Napoli È una squadra Trita tutto Che il Napoli È una squadra Mangia squadre Lo continuo a dimostrare Ogni giorno E questa È la vera notizia Il Napoli Batte anche l'Atalanta Non Diciamo Preoccupandosi Di quello che fanno le altre Non tipo Gioco prima Gioco dopo Ma chi se ne frega Il Napoli Batte l'Atalanta E torna A più 18 Raga Il Napoli Sta andando Verso forse Uno degli scudetti Più meritati Degli ultimi 50 anni Non lo so 50 anni È tanto Io ne ricordo Un po' meno Di una ventina Di anni Di calcio Quindi insomma 50 anni È un'esagerazione Scusate Che io Non posso permettermi Di fare Ma io Ricordo sicuramente Anni in cui La Juventus Ammazzava il campionato A marzo Ricordo Anni in cui L'Inter Distruggeva qualunque cosa Avendo tutte le punte A disposizione Aveva 47 Però ragazzi Quest'anno Il Napoli è stato Pazzesco Perché poi capita L'anno Della ricostruzione L'anno in cui Perde le pedine Sulla carta Più importanti Per ripartire Da giocatori Giovani Sconosciuti Sui quali Giuntoli Ha deciso Di ripartire Sui quali Giuntoli Ha deciso di puntare Per puntare Alle stelle E quest'anno Credo che al Napoli E ai napoletani Sarebbe andato bene Dopo la rivoluzione Dopo la dio di Insigne Curibali Mertensio Spina Andare anche in Champions In Champions Sarebbe stato buono Questo Napoli Vincerà lo scudetto Meritandolo Meritandolo Perché questo Napoli Oggettivamente Merita Lo scudetto E ve lo dico io Da romanista Ma perché dire Non è vero Non è vero Non è vero È una cazzata È una cazzata Che ci raccontiamo È una cazzata Che vogliamo raccontarci Per quale ragione Parliamo di calcio Vogliamo parlare di calcio Questo è Poi chiaramente C'è una lotta Champions aperta Perché la Roma domani È obbligata a vincere Col Sassuolo Stasera la Lazio La ospite del Bologna Ci sarà la Juventus Contro la Samp Una Samp Che non sta facendo benissimo Ma che comunque Può essere una sorpresa Deve ancora giocare il Milan Lunedì se non sbaglio Giocherei Sono molto curioso Di vedere il Milan Insomma la lotta Champions In questo momento È bagarre Per lo scudetto Però c'è solo un nome Il nome è il Napoli Complimenti a Luciano Spalletti Vincono anche questa